buongiorno ciao a tutti in questi giorni in cui siamo chiusi in casa mi faceva piacere leggere con voi il banone rampante di italo calvino che ci porta un po fuori in un mondo un po più avventuroso di quello che stiamo vivendo in questi giorni e volevo provare a leggerlo con voi usando la via di entrata che l'ha fatto per me un romanzo importante e significativo e è una via che mescola un po l'esperienza biografica di calvino con i tratti che sono stati fondamentali decisivi nel suo percorso e poi provando anche a contestualizzarlo un po con quello che stava accadendo nel mondo letterario italiano e internazionale in quel momento per provare a capire un po meglio cosa significava scrivere un romanzo come il barone rampante negli anni in cui lo scrive calvino provando a iniziare dalla sua biografia io non starò adesso a raccontarvi tutti i tratti della biografia di italo calvino ma solo alcuni punti che sono utili poi per la nostra lettura del barone rampante teniamo a mente pochi dettagli il primo è che italo calvino nasce a lavana da un padre agronomo e da una madre naturalista quando quando molto piccolo ha appena due anni si trasferisce a san remo nella riviera ligure dove trascorrerà tutta l'infanzia qualcuno di voi magari è familiare con quei luoghi però immaginiamoci la rigogliosità della riviera esposta sul mare con gli arbusti gli alberi dalle grandi fronti grandi rami che si diramano appunto in tutto questa lunga costa a picco sul mare quando è appena un ragazzo calvino si scontra con l'esperienza della guerra della seconda guerra mondiale entra ancora giovanissimo a far parte della resistenza questo sarà qualcosa che segnerà un discrimino un primo non dopo nella vita del giovane calvino e che ne porterà una traccia forte anche se meno forse evidente a una prima lettura nel barone rampante però subito dopo la guerra calvino torna a torino e inizia a frequentare la casa editrice naudi per capire cosa significava la casa editrice naudi in quegli anni dobbiamo tenere conto che si radunavano attorno a quelle riunioni editoriali tutti quelli che erano i maggiori intellettuali italiani di quegli anni vittorini natalia ginsburg e leone ginsburg primo levi molti di loro tornati da anni di prigionia o di fuga dall essersi nascosti durante gli anni del fascismo che sono anni di di grande vitalità intellettuale culturale per la casa editrice sia nel proprio riflettere rispetto alla situazione italiana alla nuova realtà che si prospettava sia per il dialogo che la casa editrice instaura con il mondo internazionale da un lato con la grande narrativa americana che inizia a tradurre grazie anche agli autori e gli intellettuali che stavano nella casa editrice e celeberri ma la traduzione di mobidic di cesare pavese ma anche molte altre e dall'altro lato però anche i dialoghi che si instaurano con l'esperienza saggista con la tradizione ad esempio francese con un certo studi storici che si sviluppano in quel momento con particolare rilevanza dentro la casa editrice naudi teniamo però conto che italo calvino è giovane un ragazzo appena 23 anni in quegli anni quindi è il giovane outsider che si muove un po ai confini di questo mondo di intellettuali di grandi maestri più vecchi di lui e che li guarda con la giusta ammirazione ma anche con un certo spirito scansionato ecco questi sono è un po in breve vi ho cercato di dare quelli che sono gli elementi che dobbiamo attenere a mente nella bibliografia di calvino per poi rileggere bernone lampante l'origine la famiglia e l'interesse per la natura lo slancio sanremo la liguria dall'altro lato l'esperienza centrale che sarà un motore forte nella scrittura di bernone lampante della resistenza e dall'altro poi l'esperienza che sta sta vivendo negli anni in cui l'esperienza culturale nella casa editrice naudi che calvino vive negli anni in cui si mette a scrivere il bernone lampante ma adesso proviamo ad allontanare un attimo la nostra telecamera fra un passo indietro per cercare di vedere cosa veniva pubblicato in quegli anni in italia e nel mondo internazionale quali erano i romanzi di maggiore rilievo che uscivano in libreria in italia sono gli anni in cui escono il barone lampante esce nel 1957 e quegli anni sono il 55 58 sono gli anni in cui escono i romanzi più importanti di pasolini in cui esce quello che sarà poi un best seller dell'epoca che è il gatto pardo di tomasi dell'ampedusa gli anni in cui scrive bassani sono importanti forse proprio del 58 e gli occhiali d'oro e se noi solo a partire da questi pochi nomi se noi volessimo provare a tracciare una linea che le accomuna pur tra autori diversissimi e se volessimo un po allargare il raggio all'attenzione e alla critica letteraria che in quegli anni si stava sviluppando nell'immediato dopo guerra in italia potremmo dire per semplificare che l'attenzione al reale era la tonalità dominante e quindi un certo realismo un realismo anche impegnato era il motore principale della narrativa degli autori italiani perché perché si era appena usciti da un'esperienza atroce terribile come quella che era stata della guerra con le derive poi del nazismo su tutto quello che stava venendo alla luce negli anni subito dopo la guerra e per cui immaginarsi la possibilità di opere di fantasia d'evasione di intrattenimento in cui l'immaginazione corresse per le sciolte era visto storcendo un po il naso da quelli che erano gli intellettuali più in vista gli scrittori più importanti dell'immediato dopo guerra questo per darvi in poche parole il quadro di quello che stava accadendo in italia in quel momento però proviamo spostarci ancora un po un po più fuori a guardarlo dal punto di vista internazionale appunto perché calvino frequentava una casa editrice dove l'attenzione verso quello che accadeva nel mondo letterario era molto alta sono gli anni in cui esce colazione da tiffany truman capotti truman capotti è forse l'esponente più importante di quella corrente che viene chiamata new journalism cioè di quella narrativa che prende i fatti di cronaca e li gira li monta li racconta facendone della vera propria narrativa vicino a quello che noi oggi chiameremmo la narrativa non fiction sono gli anni di truman capotti di colazione da tiffany ma sono anche gli anni della big generation e dell'anno dopo del 58 ma limitro col barone lampante la pubblicazione dei vagabondi del dharma di gic eroac e quindi delle esperienze limite delle droghe della psica delia tutto il mondo che va su dentro l'immaginario della della big generation e che quindi con l'immaginario ha molto a che fare invece e per mettere un altro importante tassello è di qualche anno prima del 55 la pubblicazione di lolita il grande romanzo scandaloso e assolutamente innovativo dal punto di vista linguistico di nabocco per cui immaginatevi nel resto del mondo accadono tutte queste cose stanno muovendo e dando nuove direzioni quelle che poi diventeranno delle correnti importanti che lo sono già in quegli anni new journalism la big generation il caso nabocco dall'altro lato in italia il realismo la forte adesione a raccontare quello che il nostro tempo ci ci metteva sotto gli occhi anche usando la storia come come specchio per quello che stava accadendo ecco in questo contesto italo calvino inizia a scrivere il barone lampante se noi dovessimo riassumere il barone lampante in pochissime parole forse diremmo semplicemente che la storia di un ragazzino che per protestare contro un piatto di lumache prende e gli alberi da cui non scenderà mai più è un modo di raccontarlo semplice in tre parole poche righe l'abbiamo definito e però stanno anche solo legate a questa definizione vediamo come ci ci si pongono già dei problemi intanto diciamo un ragazzino che scappa sugli alberi dove siamo qual è la geografia in cui si situa questo romanzo è una geografia immaginaria non è un paese reale non c'è qualcosa cui ci possiamo appoggiare ombrosa che il territorio di dominio di proprietà del giovane cosimo è un paese immaginario dove però basta poco al più attento del lettore per andare a riconoscere quei tratti della geografia ligure di cui appunto vi raccontavo all'inizio questo perché perché ve l'avevo sottolineato perché soprattutto nei romanzi d'esordio soprattutto quando i primi romanzi hanno una vitalità e un energia che poi li trasforma in classici della letteratura per farvi dei nomi pensiamo ai Budenbrock di Thomas Mann o Goodbye Columbus di Philip Roth ma insomma i nomi si sprecano quando un romanzo i primi romanzi hanno questa carica vitale molto spesso più o meno esibiti o sotto traccia qualche legame con la biografia dell'autore c'è e permane che non vuol dire che l'autore ci racconti i fatti suoi e quello che gli è accaduto ma che sappia trasformare quelle che sono state le suggestioni gli eventi più importanti della propria biografia trasformarli in immaginario e farne poi una storia e sicuramente la materia che fa da sfondo la geografia dove si svolge il barone rampante nasce da tutti quei pomeriggi che il giovane Italo Calvino aveva passato a peregrinare nei boschi nei dintorni della della riviera Ligure con quell'attenzione con quell'occhio abituato a cogliere sono bellissime nel romanzo le descrizioni che lui fa della natura sono bellissime perché se ci fate caso sono molto precise Calvino quando ci descrive non descrive mai una natura dicendo l'albero la pianta l'arbusto ma ne dà il nome proprio conosce il colore specifico delle foglie il nome giusto delle gemme o di un fiore e questo viene sicuramente anche dalla sua formazione dalla sua formazione familiare come abbiamo detto all'inizio quindi questo già l'ambientazione geografica ci pone già una questione avevamo detto che erano gli anni in cui l'immaginario e l'immaginazione e la narrativa fantastica era vista un po con sospetto storcendo il naso Calvino ambienta il suo il suo romanzo in un paese in un in un feudo immaginario il tempo in che tempo si svolge il romanzo nel romanzo ci sono quella dei richiami che ci permettono di datarlo ci sono dei riferimenti a napoleone a quello che era accaduto durante la rivoluzione francese sappiamo che stiamo parlando del settecento e non è una scelta casuale ve lo nomino perché non tanto perché sia rilevante nel romanzo nella misura in cui il romanzo non è un romanzo storico però rilevante la scelta di Calvino di ambientarlo esattamente in quel tempo perché proprio il settecento tutto il secolo dei lumi quello che era successo poco prima e poco dopo la rivoluzione francese era oggetto di enorme interesse da parte degli intellettuali della casa editrice naudi e questo lo capiamo benissimo perché perché dopo gli anni della guerra dopo che la ragione la razionalità umana era stata messa a dura prova con l'orrore dei campi di concentramento col punto in cui si era arrivati con auschwitz era forte negli storici negli intellettuali la tensione a recuperare quello che c'è di più illuminista razionale del dell'animo umano e di indagare quel periodo storico e quindi forse anche l'ambientazione la possiamo leggere come un gesto sbarazzino un gesto leggero e audace del giovane Calvino di mettere il naso e mettere il piede dentro quel tempo di studio che era così oggetto delle delle grandi ricerche degli studiosi più titolati più anziani di lui e quindi anche la familiarità che a Calvino vedete nel muoversi con la cultura senza esserne in soggezione proprio perché la maneggia la maneggia bene la maneggia in modo affettivo e questo perché vi dico la maneggia in modo affettivo perché se noi dovessimo abbiamo detto questo libro non è un romanzo storico non è neanche un saggio filosofico sebbene per certi aspetti ci ricordi Liderot il candido di Voltaire ma non è un romanzo filosofico sotto nessun aspetto è un romanzo d'avventura è un romanzo che in certi versi ci può ricordare Alice nel paese delle meraviglie o Peter Pan però non lo possiamo ridurre a quello e se dovessimo chiedere al suo autore che tipo di libro volevi scrivere da lui abbiamo una sola risposta che quella che ha dato lui stesso dicendo che aveva scritto questo libro per nostalgia di tutti i romanzi della sua fanciullezza e per questo vi dico la tonalità è una tonalità affettiva una tonalità di un autore che ama i libri che ai libri deve molto perché con i libri era cresciuto che continua a stare in mezzo ai libri ma che appunto ne ha una familiarità giocosa scherzosa non viene a farci la lezione ma usa quelli che erano stati libri che aveva amato per raccontarci una storia divertente e piena d'avventura nel provare a raccontare questo libro in una frase io vi avevo detto è la storia di un ragazzino che per protestare contro un piatto di lumà che prende scappa sugli alberi e non tornerà mai più ecco l'elemento della fuga è un altro elemento centrale che guida tutto il libro potremmo dire che la storia di cosimo di rondo non è altro che la storia di una fuga però attenti noi la fuga siamo abituati a vederla con qualcosa di con una tonalità negativa come una incapacità di prendersi le proprie responsabilità e quindi di fuggire di andar via di creare una distanza enorme di mettere in mezzo un rifiuto tra noi e la società e luoghi e le cose da cui scappiamo invece la grande innovazione di di calvino è che nel barone lampante la fuga a un potere creativo non c'è niente di peter panesco in questo cosimo di rondò non se ne va dalle proprie responsabilità del suo rango non fugge per protesta evitando l'autorità dei genitori evitando il suo precettore che continua a inseguirlo sugli alberi per fargli lezione anzi cosimo fugge ma sta sempre molto vicino alla realtà sta sempre attorno partecipa alle cene partecipa alle cene addirittura quando ci sono i grandi invitati della nobiltà degli altri stati segue le vicende della propria famiglia e si prende la responsabilità che il suo rango gli pretende che da lui e per questo continuerà per tutta la vita fino alla vecchiaia a seguire tutte le vicende in un mutuo adattarsi della realtà che si adatta al vivere di cosimo tra gli alberi e di cosimo però che trova una mediazione tra proprio vivere sugli alberi e quello è il mondo a cui continua però ad appartenere e qui c'è forse l'elemento più importante che lo rende così così significativo questo romanzo che il fatto di come ci racconta una ribellione quella di di calvino e di calvino di cosimo di rondò e a tutti gli effetti una ribellione contro un sistema che non gli va bene e che spinge il lettore a prendere una prospettiva completamente diversa a salire su un albero e a guardare il mondo da un altro lato e c'è qualcosa di fortemente rivoluzionario in questo per questo all'inizio vi avevo detto teniamo a mente l'esperienza della resistenza perché apparentemente non c'è traccia nelle vicende di cosimo dei nostri protagonisti di di quello che era accaduto nella resistenza è un mondo diverso in un tempo diverso però la tensione è determinante perché perché calvino era molto giovane quando si ruola sale sale nei boschi ed entra a far parte dei movimenti di liberazione ed entra a contatto da vicino con un'esperienza che ha tutti i tratti dell'eroismo una esperienza che richiede il sacrificio personale che richiede di essere faccia a faccia con la violenza di essere disposti a vedere morire a morire i propri amici morire i propri cari a fare delle scelte molto rapide sacrificando qualcosa in nome di qualcos'altro molto spesso di di un ideale che non si sa se si riesce neanche raggiungere e quindi questa esperienza di di un eroismo che calvino sente su di sé ma soprattutto che vede atto attorno a sé nell'esperienza degli anni della resistenza rimane rimane lui rimane sotto traccia in qualche modo perché quando si rientra quando si rinizia dagli anni della ricostruzione soprattutto dal lato in cui lo vive lui della ricostruzione intellettuale è un momento storico in cui la parola eroismo viene bandita perché perché era legata anche una certa retorica nazional fascista era l'eroismo poteva incarnare tutti quei valori che erano stati veicolati dal fascismo l'audacia il coraggio l'uomo che non teme di sfidare nessuno quello tutto quella retorica che aveva spinto poi il paese verso la guerra e i disastri che ne erano venuti per cui è forte dal punto di vista degli intellettuali soprattutto degli intellettuali che gravitavano attorno alla casa editrice naudi che ha una forte impronta storica storicistica quindi di ragione ragionamento su quello che era l'eredità e la memoria della storia era impensabile fare un romanzo già fare un romanzo vero e proprio che mettesse in gioco della fantasia dell'immaginario una fuga della realtà e per di più un certo eroismo però quella traccia rimane con la spinta è forte nel giovane calvino e come fa come trova una via di uscita lo trova prendendo un ragazzino in un'epoca più o meno indistinta ma che possiamo ben situare nel settecento del post rivoluzione francese e gli fa fare la cosa più rivoluzionaria di tutti lo fa salire e anche più semplice e più interna al modo di vivere di sentire della formazione del giovane calvino lo fa prendere e salire su un albero con un gesto facilissimo che però rovescia tutto e lo porta a rileggere tutti non solo le costitudini le abitudini i pranzi le cene l'imparare a dormire ma anche le relazioni durante il romanzo poi nascerà un amore tra tra viola la volitiva viola e cosimo ma ne nasceranno anche molti altri nasceranno guerre nasceranno conflitti ci saranno i banditi tutto però viene visto con una nuova chiave una chiave a cui cosimo rimarrà per sempre fedele perché nonostante le difficoltà nonostante le ossa rotte di dormire sugli alberi lui da quegli alberi non scendrà più e questa è forse la cosa più importante che mi premeva di dirvi quello che per me rende il romanzo di calvino un romanzo così potente in grado di raccontarci sempre qualcosa perché quello che lui racconta è una linea di fuga è il tracciare un movimento che però non è un evadere non è un sottrarsi non è un rinunciare alla realtà ma è un provare a cambiarla è un non accettare delle regole ma provare a cambiarle stando nelle regole rovesciando sui propri punti di vista ed essere pronti a prendersi le responsabilità le fatiche che questo punto di vista rovesciato impone essere pronti ad adattarsi imparare a lavarsi come piegando le correnti dei ruscelli imparando convivere con le ossa rotte imparando a dormire con delle pelli però provando nel contempo a forzare la realtà a spingere la realtà cambiare perché se io riesco a vivere su un albero e riesco a costruire le mie relazioni a studiare a seguire le mie responsabilità che competono al mio rango di famiglia ed esserne all'altezza forse è possibile che anche i cambiamenti più audaci possano essere fatti e c'è dentro questo un insegnamento più piccolo con cui io volevo lasciarvi in questi giorni con le con le parole di calvino perché è un insegnamento etico forte questo il barone armande non è un romanzo morale lo possiamo leggere tutto da un fiato come semplicemente un romanzo d'avventura però abbiamo intravisto che gli strati sono tanti c'è il romanzo storico pur non essendolo c'è il romanzo filosofico anche se non è un romanzo filosofico e però c'è un forte tratto di spinta etica ma che è un'etica individuale e in un modo strano tra le righe un'etica rivoluzionaria ve lo volevo leggere dalle parole di calvino perché a un certo punto cosimo è sugli alberi ormai già da un po di tempo e incontra la bella e bruffona un po viola che in sella al suo calvino passa sotto gli alberi di cosimo senza riuscire a vederlo senza sapere se lei se lui è lì o no ne vede un pezzo di vestito e segue e a un certo punto calvino scrive uno frascar sui rami ed ecco ad un alto fico affaccia il capo di cosimo tra foglie e foglia ansando lei di sotto in su con quel frustino in bocca guardava lui e loro appiattiti tutti nello stesso sguardo loro sono gli amici con cui fa i suoi scorribande cosimo non resse ancora con la lingua fuori sbottò sai che non sono mai sceso dagli alberi da allora le imprese che si basano su una tenaccia interiore devono essere mute e oscure per poco uno le dichiari o se ne glori tutto appare fatto senza senso o addirittura meschino così mio fratello appena pronunciate quelle parole non avrebbe mai voluto averle dette e non gli portava più di niente di niente e gli venne addirittura voglia di scendere e farla finita ecco vedete qui soprattutto nei nostri tempi in cui è molto importante mostrare piuttosto che dire è molto più importante la narrazione dei fatti rispetto ai fatti in sé lo vediamo in questi giorni in modo particolare ma lo vediamo sempre la cifra della nostra epoca calvino ci fa dire tramite la voce del fratello di cosimo che è il narratore di tutta questa storia non a caso un narratore d'angolo molto presente nella storia vicino coinvolto ma marginale perché la prospettiva è sempre un gioco di qualcuno che sta sta sul bordo sta ai margini di una situazione da un lato di una minoranza da un comportamento che non è quello dei più però grazie alla sua posizione riesce a vedere meglio le cose a dirci qualcosa però il fratello cosa ci dice che cosimo aveva fatto una scelta difficile una scelta audace stava sugli alberi però nel momento in cui gli viene da vantarsene gli viene da mostrarlo perché perché davanti a viola vuole far vedere che lui ce la stava facendo che stava facendo qualcosa di rivoluzionario ne aveva un merito lo dice gli dice sai che non sono mai sceso da allora immediatamente il suo tutto il suo impegno tutto quello che aveva fatto diventa poca cosa anche i suoi occhi perché perché dice calvino perché le imprese che si basano su di una traccia interiore devono essere mute e oscure per poco uno le dichiari e se ne glori tutto pare fatto senza senso o addirittura meschino per dirvi come poi la letteratura dialoga da una nazione all'altra e da un tempo all'altro parole molto simili le dice un narratore più vicino noi più vicino anche a voi che è steven king nell'incipit del suo racconto lungo che possiamo definire quasi un romanzo che stand by me io con questo vi saluto e buona lettura le barone lampante ciao 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 ciao